Buongiorno a tutti, ben ritrovati in questa seconda parte della mattinata che prelude a un autobanchetto che verrà, immagino, predisposto da qualche parte. E quindi prima di accomodarci, prima di buttare la pasta, come diceva Dan Peterson, proviamo a capire con i player di questo settore, di questo mondo, di questa industria che non è più, come avete ormai ben capito, e mi rivolgo soprattutto agli studenti, fra di voi non è più solo l'industria radiofonica, ma è ben altro, è l'industria che ha a che fare con l'ecosistema dell'audio e del suono. E allora ho il piacere di presentarvi qua con noi oggi a Roma e collegati da remoto alcuni dei manager più importanti di tutto questo settore, che ci aiuteranno a entrare nei discorsi che sono stati analizzati nelle precedenti due ore e di capire come poi concretamente tutta l'analisi che avete visto si può mettere a terra nel lavoro di tutti i giorni e in quello che viene proposto al pubblico italiano e non solo. Quindi diamo il benvenuto con un bel applauso da sinistra a destra sul palco a Sabrina Tinelli, Head of Editorial Content di Cora Media, di fianco a lei Andrea Borgnino, responsabile editoriale di Rai Play Sound e poi una leggenda del mondo universitario, degli studi, dei media italiani e non solo, il mitico professore Enrico Menduni. Alla sua destra una piacevole novità per questo tavolo, abbiamo la managing director per Southern Register Europe di Spotify, Federica Tremolada, ben arrivata. E poi di fianco a me ho il piacere invece di avere il responsabile editoriale di One Podcast, che è la Media Factory del gruppo Gedi, Mariano Fiorito, benvenuto, no, perdono, Antonio Visco, Antonio Visco, buongiorno. Visca, perfetto, abbiamo iniziato benissimo, Visca, ma io le voglio bene e l'abbraccio, darò a tutti loro del lei, ovviamente, così come darò del lei al CEO di Fimi, che è collegato con noi, Enzo Mazza, buongiorno, non so se già ci vede. Buongiorno, buongiorno. Eccolo, buongiorno, buongiorno, la vediamo, immaginiamo ancora a Sanremo? No, a Milano, ragazzi. Già a Milano, già a Milano, ok, perché qua la metà di noi è reduce da Sanremo, insomma, poi parleremo anche di questo, e ugualmente collegato invece è il già citato Mariano Fiorito, che è direttore generale di SCF, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, iniziamo subito e iniziamo a mettere i piedi nel piatto, perché abbiamo tante cose di cui discutere e proveremo a fare una chiacchierata, un dibattito, facendo interagire il più possibile i nostri ospiti. Ho fatto arrivare anche dei caffè, in modo da averli molto reattivi. È una specie di doping che viene usato in questi casi per costringerli a essere corruzione, dice il professore. Assolutamente sì, è una specie appunto di, io dico caffè, in realtà è un nascosto delle sostanze, grazie. Dentro il caffè per averli ancora più reattivi. Bene, iniziamo con Andrea Bornino, responsabile editoriale di Rai Play Sound. Abbiamo molto sentito parlare della piattaformizzazione, in questo caso del servizio pubblico, quindi dell'editore più grosso dal punto di vista anche economico, per quello che è stato il suo passato, la Rai e Radio Rai. Stamattina c'è stato anche il direttore Roberto Sergio. Io confesso il mio conflitto di interesse, ovviamente, perché da una vita faccio programmi a Radio 2, ma qui sarò arbitro imparziale. E allora, Andrea Bornino, come iniziamo a ragionare, soprattutto come iniziamo a far convivere questi mondi, da un lato le radio, dall'altra le piattaforme, i nuovi player? Prima il professor Bonini citava il passaggio dal complesso di inferiorità a quello di superiorità, e poi forse siamo arrivati al complesso della realtà, quindi anche la Rai in questo senso sta facendo molto. Sì, grazie Filippo. Io non sono Elena Capparelli, naturalmente, che è la mia direttrice, che è citata, che purtroppo non poteva essere qui e vi saluta. Ma guarda, secondo me, ascoltando l'oretta prima, anzi le due orette prima, Rai Play Sound sembra una piccola realizzazione di quel sistema audiosuono che è stato citato. Perché lo dico, non per vantarmi? Perché di fatto dentro questa piattaforma, che ha un anno e un mese di vita, quindi è molto giovane, c'è tutto quello che, quantomeno il servizio pubblico, produce in audio. E questo, però, detto così, fa pensare soltanto alla radio, ma non è quello. Provò a elencare quello che si trova dentro questa piattaforma. Ci sono, naturalmente, i 12 canali live della radio. Li ha citati prima il direttore Sergio, sono Radio 1, Radio 2, Radio 3, tutti e anche i canali più giovani, da No Name Radio, da Radio Tech&T, tutto quello che la radio fa live. Poi ci sono le versioni on demand, i programmi fatti da questi canali. Sono 350 programmi ogni giorno. Cioè, immaginate che ogni giorno, come se ci fossero 300 podcast pubblicati così nuovi. È un numero importante. Poi c'è l'audio dei programmi TV, perché abbiamo scoperto, ma è una scoperta che non abbiamo fatto noi. Basta andare, ad esempio, su Spotify e scoprire che ci sono gli audio dei programmi di Luca Velli, o ci sono ovunque, ci si trovano podcast fatti, uso il termine rubando, ma prendendo, possiamo usare vari termini, prendendo l'audio di alcuni programmi TV che funzionano bene anche senza guardarli. E quindi abbiamo tutti i giorni pubblichiamo l'audio di fiction, di programmi TV. Poi ci sono gli audiolibri, perché dentro in casa, grazie ai colleghi di Radio 3, abbiamo una piattaforma di 250 audiolibri. E siamo quasi gli unici che offriamo ormai audiolibri gratis in Italia. Che l'audiolibro dà una piccola nicchia, adesso è diventato un business. E quindi il fatto che se uno scrive audiolibri gratis, viene il primo right play sound, devo dire, mi fa un grandissimo piacere. Poi ci sono i contenuti delle sedi regionali, perché abbiamo scoperto che nelle sedi veniva prodotta tantissima radio che non finiva da nessuna parte. E anche qui pubblichiamo tutti i gerri regionali, tutti i contenuti fatti dalle sedi dove c'è una programmazione diversa, anche in lingue diverse, sloveno, tedesco, ho finito, mi sembra di essere un piazzista televisivo che vi sto vendendo un prodotto. E poi, dulcis in fundo, ci sono i podcast originali, cioè il fatto che ci siamo messi come right play sound a produrre qualcosa di nuovo. Abbiamo tentato di non pestare i piedi alla radio, cioè di andare a proporre stili, formati, contenuti che non fossero nell'offerta, soprattutto di Radio 1, di Radio 2, Radio 3, non mi metto a citarli, se no facciamo notte, però di fatto in un anno sono apparsi sulla piattaforma 150 podcast originali. Tutto questo per dire che io tutti i giorni ricevo una classifica dei prodotti più visti e ti dà l'idea di una media company, cioè io vedo in questa classifica un mix di prodotti che arrivano da Radio 3, da Alta Voce a Prima Pagina, prodotti di Radio 1, podcast originali, programmi TV ascoltati solo in audio, il GR del Molise, che è uno dei contenuti più ascoltati. Abbiamo scoperto che i GR delle regioni dove c'è stata una grande migrazione, il Molise, la Calabria, la Campania, sono ascoltatissimi all'estero, quindi appaiono, si mischiano insieme ai nostri podcast originali. Gli audiolibri, quindi trovo Manzoni e sotto trovo Io Evo il Milanese. Ecco, guardando questa classifica, l'idea di una media company citata mille volte, io lavoro in red da 25 anni, penso che la seconda parola che ho imparato è media company, cioè dobbiamo fare la media company. No, non te lo dico la prima qual è, ognuno può scegliere la propria. Però di fatto, vedendo questa classifica, ti accorgi che grazie a Ripley Sound, che dopo tutto è come Ripley, una piattaforma nuova, questa offerta, questa piattaformizzazione che ha citato prima il professor Bonini, c'è, che poi sia diffusa, che poi c'è un lavoro da fare per far sì che aumentino gli ascoltatori, però di fatto la piattaforma c'è e i contenuti tentiamo di andarli, veramente stiamo scavando ovunque ci sia un contenuto audio in azienda, lo andiamo a buttare lì. Grazie Borgnino, grazie anche per la sintesi, perché appunto, come dicevo, mi piacerebbe coinvolgervi molto e a più riprese in questa giornata. Interessante, quando Borgnino dice dal GR del Molise andiamo nel mondo, no? Cioè la piattaformizzazione porta anche a questo. E allora proviamo a capire come si può incrociare con il prossimo ospite, perché Federica Tremolada fa il contrario, dal mondo Spotify porta contenuti audio in Italia, in Molise anche, immagino, ovviamente. Allora, intanto che cosa ha portato Spotify ad essere questo player su scala mondiale? E poi quali convergenze vede possibili qua in Italia, insomma, su quello che fate voi e quello che invece è l'ecosistema che abbiamo visto adesso? Buongiorno a tutti, tolgo la parola a chi stava parlando e riaccendo il microfono. Io sono Managing Director di Spotify per il Sud ed Est Europa e questo è il mio quarto anno, diciamo, nell'azienda. Quindi ho visto un po', diciamo, quello che è accaduto a livello globale nel mondo del podcast e come l'abbiamo fatto atterrare nel nostro paese. Però dobbiamo fare un passo indietro sul perché siamo qui, no? Perché Spotify è una piattaforma che è famosa principalmente per la musica. Quindi diceva prima il professor Veronese, data nel 2013, nel 2023, quest'anno compiamo dieci anni. e la nostra forza è quella di essere stata un'azienda interamente focalizzata sulla, diciamo, la massimizzazione dell'ascolto musicale. La missione, infatti, di Spotify è proprio quella di poter liberare la, diciamo, il potenziale della creatività umana dando la possibilità a milioni di artisti di vivere della propria arte e di metterli in contatto con altrettanti miliardi di fan che possono essere ispirati da questa arte. Quindi se partiamo da questa concezione l'idea iniziale di Daniele è che è stata proprio quella di poter dare una piattaforma sostenibile nel mondo della musica. Facendolo è accaduto, diciamo, qualcosa di straordinario. Non solo si è sconfitta la pirateria e tra l'altro ad oggi abbiamo qui anche Enzo Mazza che confermerà con i numeri che proprio fornisce Fime ogni anno. L'Italia è entrata a far parte, tornata a far parte dei primi dieci paesi in termini di ricavi nell'industria musicale. Ma ha anche creato un nuovo paradigma d'ascolto. Quindi ormai se si cita Spotify in qualche modo c'è il sinonimo di streaming. E quindi si è spostati da audio inteso come musica a audio inteso come un panorama infinito di altri contenuti. Da qui è stata data una nuova vita ai podcast. Nel momento in cui i podcast appunto sono stati lanciati sulla piattaforma di Spotify, molti formati ancora non esistevano e adesso abbiamo visto una bellissima generazione di nuove creatività che sono arrivate anche nel nuovo paese. e ci stiamo piano piano ampliando anche al mondo degli audiolibri che appunto come diceva Andrea Bornino è l'altro, il terzo in qualche modo parte, cioè funzione importante che queste piattaforme possono fornire. Al momento noi l'abbiamo lanciato solamente negli Stati Uniti in una modalità alla carto, però è possibile acquistare i singoli titoli. Quindi tornando a noi, la dimensione che Spotify ha nel mondo, quindi ormai è quella di più di 489 milioni di utenti di cui 205 milioni sono utenti che pagano, dà la possibilità di fare che cosa? Di trasportare tutte queste funzioni, ovvero le playlist, l'algoritmo, l'intelligenza artificiale, quello che ci sentiamo dire dai nostri utenti, ovvero il fatto che una delle cose che ci dicono di più è voi ci capite immediatamente, cioè la potenza di Spotify che riesce in qualche modo a capire i miei gusti, anticipare quello che vorrei ascoltare. L'abbiamo applicato poi anche nel mondo dei podcast. Ci sono, facendo un minimo di misurazione, 100 milioni di brani musicali su Spotify, ma ci sono già 5 milioni di titoli di podcast a livello globale sulla piattaforma. E se guardiamo al mondo italiano, ci sono già più di 50 mila titoli di podcast, di cui la maggior parte, come ci diceva anche la ricerca, che in realtà sono nati abbastanza recentemente. Sulla piattaforma esistono tre tipi, diciamo, diversi di contenuti. Ci sono i contenuti che si chiamano user generated, ovvero quelli che sono caricati dagli utenti, questi possono andare veramente tra i generi più disparati, lezioni di lingua, piuttosto che meditazione, ASMR, ASMR, per chi conosce un po' il genere, ai contenuti dei publisher, ovvero dei player ufficiali che già ovviamente hanno fondato il proprio business e sono dei player nati proprio nel mondo dei media, media companies. Le radio ovviamente fanno parte anche di questo, ma anche le televisioni, per esempio anche il TGD, la sede ora e poi è possibile ascoltarlo in modalità audio su Spotify. Spotify e la terza componente sono i contenuti originali ed esclusivi, di cui Spotify ha fatto in Italia una produzione di un totale 42 titoli, questi tra originali ed esclusivi, quindi non è solo, diciamo, un'attività di coproduzione fatta con alcuni player, ma anche ci sono alcuni contenuti che sono stati acquisiti in esclusiva perché funzionavano in maniera particolarmente, con particolari successi sulla nostra piattaforma. Oltre a questo è stato fatto un investimento ulteriore a livello tecnologico, che è quello legato al mondo, diciamo, delle piattaforme per poter in qualche modo rendere più facile a tutti di caricare o creare un podcast attraverso la piattaforma che appunto chiamiamo, che si chiama Anchor, o la nostra piattaforma proprietaria che è Spotify for Podcasters, e un secondo investimento che è quello nel 2021 della piattaforma di Megafone, ovvero uno strumento che consente di caricare contenuti, ma anche ospitarli, fare hosting, e poi andare a monetizzarli. E qui arrivo, diciamo, alla parte chiave, che è quella che si sta sviluppando di più in questo momento, ovvero il podcast, secondo lo IAB, non solo in Italia, ma nel mondo, una possibilità di ricavi di 4 miliardi di dollari. Al momento siamo a 2 miliardi di dollari, 4 miliardi entro il 2024. Quindi si hanno delle attese anche proprio in termini di crescita di ricavi molto elevate. Infatti l'inventory che viene monetizzato di questi contenuti è ancora molto basso, ancora intorno più o meno al 14-15%, e stiamo vedendo come molte piattaforme stanno introducendo sempre di più il meccanismo della monetizzazione dinamica. Noi ad esempio abbiamo inserito, grazie a Megafone, questo strumento che si chiama Streaming Ad Insertion, che consente sostanzialmente di estrarre la maggior, diciamo, ottimizzare i ricavi su ciascun contenuto, perché permette di fare un targeting molto più sofisticato e a fornire, diciamo, ritornare ai brand delle statistiche che in qualche modo aiutino ad ottimizzare i propri investimenti anche nel mondo dell'audio. Chiudendo anche un po' cosa diceva il professor Veronese, ormai il mondo dell'audio è diventato tanto importante quanto il mondo del video, e un po' la pandemia ci ha accelerato, ci ha fatto capire questa cosa, perché mentre eravamo in casa ascoltavamo audio anche mentre facevamo tantissime altre cose, e da qui, diciamo, è nato proprio il successo che stiamo vedendo, che sta accadendo nel panorama dei podcast. Grazie, Tremolada. Iniziamo a vedere, no, come si sta componendo questa fotografia. C'è qualcosa però che tiene insieme, come un collante, come la materia oscura, che non sappiamo bene cos'è, ma tiene insieme tutto l'universo, ed è l'oggetto principe del lavoro e della vita, oserei dire, del prossimo ospite, la musica, perché poi senza la musica tutto questo avrebbe un altro colore, un altro sapore, e di certo altre dimensioni. E allora, sentiamo il CEO di FIMI, la FIMI è la federazione dell'industria musicale italiana, Enzo Mazza, che è anche però un visionario, un guru, mi verrebbe da dire, Mazza, se mi permette, della musica in Italia, perché ne ha fatte e ne ha viste, credo, più di chiunque altro. Quindi è uno in grado di leggere il fenomeno musicale per come ha attraversato gli ultimi vent'anni in maniera molto, molto specifica. Mazza, intanto partiamo dagli ultimi avvenimenti, che sono questo Sanremo che ha fatto saltare tutti gli standard e tutte le asticelle che si potevano immaginare. Però da lì, insomma, ha sentito i primi due ospiti. Abbiamo delle piattaforme che diventano gigantesche, sempre più grandi, sempre più globali, sempre più interessanti. Guardavo il professor Menduni, abbiamo solo 24 ore, però al giorno e 3-4 ore per notte dobbiamo dormirle, professore. Quindi come faremo ad ascoltare tutte queste meraviglie? Non lo so. Però Mazza, ci dica lei che cosa vede nel futuro della musica e come vede l'integrazione tra il mondo della musica e il mondo della discografia e il nuovo ecosistema dell'audio e del suono. Sì, grazie. Grazie per l'invito, grazie anche per le belle parole, però mi sembra un po' esagerate. Io mi collego proprio a quello che avete appena detto e anche come il festival, che è l'ultimo grande, diciamo, episodio di questa transizione digitale che sta avvenendo nella musica ha descritto bene quello che sta accadendo in questo mondo. Allora, facendo un piccolo passo indietro, diciamo che oggi il consumo di musica in tutte le sue forme, che sono tantissime, nel nostro paese raggiunge, ha superato, diciamo, i 20,4 ore di ascolto alla settimana, con delle punte ovviamente molto elevate tra la generazione Z, che arriva anche intorno alle 27, 28 ore di ascolto di musica alla settimana, prevalentemente attraverso lo streaming, ma non solo, e questo ascolto crescente di musica ha fatto sì che chiaramente tutti quelli che erano i, diciamo, gli aspetti tradizionali di questo settore in cui la musica veniva sostanzialmente prodotta e diffusa attraverso dei canali tradizionali, che erano i media tradizionali, cioè il supporto fisico, la radio e la televisione, si è completamente modificata. Da una parte, ovviamente, sono cresciute le nuove piattaforme, quindi lo streaming, streaming audio, i modelli di business anche sono differenti, noi abbiamo raccontato anche Federica appena raccontato, Spotify ha una una versione in abbonamento, ma anche una versione con la sostenuta pubblicità, altre piattaforme lavorano con monetizzazione, quindi le aziende discografiche hanno completamente anche cambiato i propri modelli di business grazie a queste innovazioni. Abbiamo visto, io ho seguito le conferenze stampa di Sanremo di Elena Capparelli in cui ha raccontato tantissime cose interessanti su quello che è avvenuto su RaiPlay in questi giorni e devo dire che tutto questo scenario è chiaramente va in quella direzione che noi avevamo da un lato auspeccato e dall'altro anche visto, cioè è un insieme di consumi che in realtà non è vero che si cannibalizzino uno con l'altro, ma spesso sono integrati e servono anche ad ampliare la conoscenza e l'accesso a questi contenuti, ovvero tutto quello che avviene su canali on demand, cioè la possibilità di rivedere delle performance on demand di Sanremo piuttosto che tutto quello che è il consumo attraverso i social di quello che sta avvenendo, quindi le discussioni, i dibattiti che avvengono intorno agli artisti e ai loro contenuti musicali, gli spezzoni di brani che arrivano su TikTok e fa sì che poi alla fine l'obiettivo finale che abbiamo noi, che è quello di raggiungere comunque un consumo di musica che porta poi naturalmente genera dei ricavi, questo sta avvenendo, quindi alla fine abbiamo visto e ripeto abbiamo qui Spotify che può confermare comunque anche quest'anno i consumi di streaming sono cresciuti notevolmente, tra l'altro si sono anche spalmati su più artisti, l'anno scorso avevamo una canzone che aveva prevalentemente dominato gli ascolti, quest'anno gli ascolti si sono diffusi in maniera più ampia, tutti i primi cinque artisti vanno sopra il milione di stream sono andati sopra il milione di stream nelle prime due giornate, quindi questa cosa fa sì che poi nascano anche nuove opportunità di promozione di comunicazione, quindi arrivo al punto poi che in qualche maniera fa da connettore con quello che state raccontando anche in questa giornata, cioè la parte di consumo di musica arriva anche laddove in qualche maniera si aprono delle potenzialità di informative che sono ad esempio i podcast musicali, cioè il racconto che fa parte di questo mondo, quindi torno indietro per dire Rai Play che mi descrive quello che avviene o che mi dà la possibilità on demand di ascoltare i brani di Sanremo, le piattaforme streaming che mi danno la possibilità di ascoltare la versione originale del brano, quindi già un nuovo passaggio, quindi ho sentito i brani al festival, li ho potuti rivedere on demand, vedo, ascolto i brani sulla piattaforma con i testi, quindi nella versione originale fatta in sala di registrazione, poi mi informo sulla vita e le attività degli artisti attraverso i canali social e poi arrivo anche a quei racconti che sono magari interviste e approfondimenti con l'artista che racconta o descrive quello che ha creato o protagonisti di questo mondo che offrono questi contenuti di nuovo on demand sopra piattaforme di podcast all'interno di o piattaforme già esistenti o altre piattaforme che sono produttori in esclusiva di contenuti podcast, quindi vedete che alla fine quello che sta accadendo è che tutto quello che noi ascoltiamo e consumiamo sta sostanzialmente crescendo e si aprono delle prospettive che fino a pochi anni fa erano assolutamente inesistenti grazie mazza quindi un primo sguardo molto positivo mi viene da dire un primo sguardo incoraggiante da parte del mondo della musica che ha saputo meglio di tanti altri mondi approfittare della rivoluzione digitale la musica ha cavalcato in questi due decenni la rivoluzione musicale e lo ha fatto in maniera molto intelligente evitando quelli che erano i patemi e le ansie della primissima ora in cui vi ricordate all'arrivo di Napster ci fu chi gridava alla fine della musica basta sarà finito gli artisti saranno sul ciglio della strada a raccogliere delle monetine e poco altro invece no guardate dov'è l'industria musicale adesso e allora vengo dal prossimo ospite perché anche lui fa parte di un importante gruppo editoriale che ha al suo interno un importante gruppo di radio parlo ovviamente del gruppo Gedi come sapete Radio DJ Radio Capital M2O sono le tre radio che forse nell'ambito del nel mondo delle radio commerciali sono le radio più di programmi da un certo punto di vista molto simili a Radio Rai come Radio 1 Radio 2 Radio 3 fanno una radio fatta di programmi così se penso a Radio DJ a Capital anche a M2O insomma sono radio molto di programmi quindi forse nella genealogia nell'albero genealogico nella distribuzione studiata dai nostri professori qua sono le radio più vicine alla forma podcast e allora come sta affrontando questa migrazione questo passaggio questa evoluzione Antonio Visca ok vorrebbe funzionare buongiorno a tutti spero bene lo stiamo affrontando spero nel modo giusto la è vero Radio DJ Radio Capital soprattutto e in parte anche M2O sono sicuramente radio che vengono definite di programmi quindi hanno a loro interno contenuti che vanno intorno alla musica ma anche molto al di là della musica ed infatti già da diversi anni il cosiddetto il recupero di programmi radiofonici sulle varie piattaforme e su anche le nostre piattaforme ha un trend crescente funziona sempre meglio ci sono alcuni programmi che aggiungono significativamente ascolto attraverso appunto la loro versione on demand il passo successivo è stato appunto quello di dire ok questo è il costituto radiofonico in pillole o male o anche non in pillole anche semplicemente in pillolone facciamo anche un contenuto originale contenuto originale che è il vero e proprio podcast e c'è la differenza appunto fra radio on demand e anche se poi per il fruitore cambia poco perché si tratta sempre di una copertina di un quadratino su Spotify piuttosto che sulle altre piattaforme che utilizziamo un anno e mezzo fa abbiamo cominciato a lavorare su questo progetto in realtà il settore dei podcast faceva già parte integrante del DNA dell'azienda un titolo su tutti veleno sei anni fa che nasce negli studi di Radio DJ a Marchio Repubblica quello è sicuramente stato un po' il punto di partenza uno dei punti di partenza più importanti nel settore dei podcast però diciamo in modo in Italia in modo strutturato e organizzato abbiamo cominciato a lavorarci lo scorso anno un anno e mezzo fa circa abbiamo deciso di avviare un doppio progetto da una parte una piattaforma che unisce tutto il contenuto del gruppo in qualche modo mutatis mutandis quello che diceva prima Andrea Borgnino riguardo ai contenuti Rai anche noi fra i giornali le testate online le radio eccetera eccetera abbiamo tanto contenuto che fino a qualche tempo fa era sparso e oggi si trova chiaramente sulle varie app e sui vari siti verticali ma anche soprattutto sulla piattaforma di One Podcast la caratteristica però di One Podcast è che non è solo una piattaforma ma è anche appunto una factory una casa di produzione chiamiamola come vogliamo all'interno della quale realizziamo sia contenuti che partono dai talent dai giornalisti dai conduttori radiofonici del gruppo ma anche talent esterni personaggi esterni che nulla hanno a che vedere con le nostre testate le nostre radio e con i quali facciamo contenuti originali per le piattaforme fra l'altro una delle differenze principali ascoltavo prima con interesse tutto il ragionamento sulla musica una delle differenze principali è che mentre sulla radio on demand la musica è parte integrante del contenuto sul podcast è ancora un po' tutto da costruire a questo rapporto e sicuramente lì ci sono ancora grossi spazi di crescita che speriamo si riescano a colmare nelle prossime stagioni sta andando molto bene per rispondere alla domanda perché il riscontro e la risposta dei nostri ascoltatori e degli ascoltatori nuovi che abbiamo trovato sulle varie piattaforme distribuendo appunto anche su tutti i principali provider da Spotify a tutti gli altri beh la risposta è stata molto importante insomma lo scorso anno abbiamo chiuso con 14 milioni di ascolti mensili che non so se è tanto poco perché i dati non sono diciamo certificati da nessun ente terzo in questo momento quindi ognuno dice i suoi però noi siamo soddisfatti del risultato fra l'altro abbiamo ricominciato il 2023 di nuovo su quelle cifre e anzi un pochino di più quindi vuol dire che è un tipo una modalità di fruizione dei contenuti assolutamente in salute e in crescita e quindi bene molto bene grazie Antonio sul tema della musica e dei diritti ci torniamo dopo perché è un tema enorme voglio sentire sia Mazza sia Fiorito sia tutti gli altri ospiti perché questo è un altro di quegli argomenti molto molto sfidanti per il prossimo futuro prima però vorrei provare a capire con la prossima ospite con cui ho avuto il piacere peraltro di lavorare proprio in Rai vorrei capire come questi due mondi si possono insegnare qualcosa l'un l'altro cioè come quelle che una volta dieci anni fa un secolo fa erano visti come attori sulla parte opposta di una barricata beh adesso avete capito quella barricata non esiste più c'è un fiumiciatolo con molti ponti che lo attraversano e allora da Sabrina Tinelli che adesso è head of editorial content per Cora Media vorrei capire che cosa il mondo della radio può insegnare al mondo dei podcast e viceversa cioè come quali sono le analogie quali le differenze tra i modelli produttivi dei podcast e della radio chi può imparare da ok buongiorno a tutti allora sì come diceva Filippo io arrivo al mondo dei podcast dopo 15 anni di radio di radio soprattutto in diretta con Caterpillar AM all'alba e anche di radio post prodotta che è in qualche modo diciamo apparentemente molto vicina al mondo dei podcast mi viene da dire che in realtà in questo modo ho un po' assistito in diretta anche proprio all'evoluzione del mezzo podcast del mezzo podcast per anni alla fine della trasmissione io mi occupavo della regia quello che facevamo era proprio confezionare il podcast della trasmissione e per anni il podcast è stato questo in Italia di fatto per un po' di anni il podcast era semplicemente la riproduzione di una di una trasmissione e poi improvvisamente adesso stacco dopo un po' di anni dopo tutto quello che è stato largamente raccontato ora il podcast è diciamo un'industria un'industria che si è fatta strada con grande orgoglio e che ora non solo appunto si è fatta spazio tra i vari media appunto con con grande forza ma anche proprio diciamo è diventato così come succede da anni nel mercato americano anche proprio un mezzo a cui altri mezzi di comunicazione guardano un mezzo da cui altri mezzi attingono penso per esempio al cinema che è una cosa che avevamo completamente trascurato magari quando ci siamo approcciati quando due anni poco più di due anni fa è nata Cora o il mondo dell'editoria pensavamo di essere in qualche modo un po' isolati da tutto quello o comunque di percorrere strade diverse parallele e invece un po' come succede nel mercato americano ora al mondo dei podcast si guarda anche proprio per rintracciare delle storie che hanno del potenziale poi derivabile negli altri mezzi quindi quello che quello che abbiamo assistito è che poi in questi due anni facendo un grande lavoro dal punto di vista editoriale insomma un grande lavoro diretto da Mario Calabresi che non a caso è la persona che sei anni fa decide di provare a rompere gli schemi e a distribuire appunto su repubblica.it veleno che tra l'altro aveva ricevuto una quantità infinita di no da da tutti cioè Pablo Trince in quegli anni fa il giro proprio delle sette chiese bussa tutti gli editori radiofonici riceve solo no da tutti finché poi insiste con Mario Calabresi e Mario decide di appunto dare il via alla storia dei podcast in Italia allora la cosa la differenza sostanziale è un po' questa secondo me quando arrivavo in Rai la mattina mi trovavo di fronte proprio a uno schedule molto preciso la radio si inserisce in un palinsesto a un momento di inizio preciso un momento di fine molto preciso dei secondi in cui bisogna andare in pubblicità eccetera eccetera nel podcast siamo davanti a un territorio di proprio sterminata libertà nel senso che nel podcast guida il contenuto e questo all'inizio fa un po' venire i brividi quando comincia a costruire un contenuto che non sai bene devi porti il problema di quanto tempo ci vuole per raccontare una storia e la realtà ci dice che appunto in questo momento ci sono podcast che durano 5 minuti quotidiani di grandissimo successo penso ad Essential penso di Mia Ceran penso a Morning comunque che ha una pezzatura molto breve o anche i nostri stories diceci di Asala o a non hanno un amico di Luca Bizzarri e anche podcast invece molto molto corposi che per me rappresentano una sorta di miracolo cioè in questo tempo in cui comunque c'è una grandissima concorrenza ovviamente per catturare l'ascolto e invece ci sono delle grandi serie che secondo me in questo caso attingono più diciamo dal mondo del cinema anche proprio per come sono strutturate e sofisticate dal punto di vista della costruzione narrativa penso ad esempio alla Città dei Vivi o di appunto di Nicola La Gioia o al Dito di Dio o di Pablo Trincia per citare degli esempi a miei vicini che sono delle serie molto molto corpose dal punto di vista del tempo e che era da investire per l'ascolto che quindi rappresentano secondo me delle ulteriori sfide perché appunto sappiamo che siamo sommersi travolti da una quantità di stimoli per cui l'idea di riuscire a ritagliarsi 4, 5, 6 ore per un ascolto di questo tipo è davvero molto molto incoraggiante i dati ci dicono che gli ascoltatori di podcast arrivano fino alla fine sostanzialmente cioè i podcast di successo sono podcast in cui la retention è molto molto alta per cui riusciamo a costruire delle narrazioni che fanno sì che gli ascoltatori poi ovviamente i credits lasciano i credits sono fatti solo diciamo per chi li fa ma però comunque sono davvero molto molto incoraggianti i dati sugli ascolti quello che secondo me cioè su cui dobbiamo ancora molto lavorare è diciamo il fatto che i dati ci dicono che i podcast per quanto ora questa parola sia un po' sulla bocca di tutti e magari ci troviamo tutti un po' meno a spiegare che cosa sia questo mezzo nuovo però i dati ci dicono che è ancora molto molto ascoltato in città come Milano Roma pochissimo in provincia nel sud quasi per nulla e quindi diciamo siamo ancora un po' davanti a una prateria diciamo da cavalcare da questo punto di vista e anche rispetto alla radio dal punto di vista dei formati da esplorare da sperimentare siamo ancora non al livello zero perché siamo davanti appunto credo che solo su questo tavolo non so come dire abbiamo curato seguito prodotto migliaia di serie podcast ma dal punto di vista dico se c'è un obiettivo da raggiungere una cosa che la radio ovviamente avendo una storia così lunga ha già molto fatto noi invece tendiamo tutti un po' a percorrere delle strade già percorse da altri dobbiamo invece provare un po' a sparigliare siamo davanti a c'è un grandissimo potenziale ancora dal punto di vista creativo nel mondo dei podcast e questa mi sembra la sfida più grande sperimentare nuovi fermati provare a spiattare e a costruire contenuti nuovi grazie grazie a Sabrina Tinelli allora per le suggestioni che ci ha dato anche per questa visione ci sono praterie aperte come nel far west guardo il professor Menduni fu un periodo di grande libertà in bene e in male ovviamente però vuol dire che ci sono grandi spazi ci sono grandi possibilità c'è una parte del discorso di Tinelli che secondo me è molto interessante anche qui per gli studenti parlo ovviamente a quelli qui nell'aula magna che è un discorso fondamentale parlavamo prima delle visioni di grandi traiettorie che stanno facendo i mezzi di comunicazione allora quello che ha detto all'inizio Tinelli se ci pensate è fondamentale i podcast stanno attirando contenuti da altri media dal cinema pensate voi noi siamo partiti questa mattina dicendo che paura la radio che a un certo punto all'inizio degli anni 2000 inizia ad avere il terrore di questa cosa internet i social network e poi i podcast moriremo tutti e invece no guardate dove siamo è l'ecosistema audio che deriva dalla radio che si è allargato si è espanso come una stella no e da lì qui citiamo Einstein la teoria della relatività diventando una massa sempre più importante inizia ad attrarre a piegare lo spazio tempo e attrae contenuti dal cinema ma stiamo scherzando cioè qui se pensiamo alle teorie degli universi editoriali di Henry Jenkins l'universo Marvel può avere un podcast in cui racconto una parte del racconto degli Avengers che magari non aveva possibilità di essere sviluppato in una serie tv ma la provo con un podcast e poi diventa qualcos'altro se penso a libri che sono diventati poi dei cult dei film ci posso passare attraverso con un podcast posso aggiungere linee narrative pensate quante cose posso fare e tutta questa cosa viene attirata dall'ecosistema dell'audio e del suono pensate che passaggio bellissimo no? stupendo dal punto di vista anche proprio scientifico e allora scendendo tornando sulla terra il prossimo ospite deve iniziare a mettere i piedi nel piatto più caldo di questa mattina ovvero il tema della musica dei diritti dei podcast e di tutto il resto quindi a lui la patata bollente è il direttore generale di SCF SCF adesso poi per gli studenti che non avessero ancora ben chiare le distinzioni diritti diritti connessi in una frase lui vi spiegherà tutto e Mariano Fiorito buongiorno 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 grazie a tutti intanto per l'invito e in effetti vorrei proprio iniziare così è tutto bello finché riusciamo a rispettare i diritti la legge e quant'altro purtroppo c'è chi come come me quindi come la mia azienda è tenuta in qualche modo a rispetto a presentare i diritti degli aventi diritto quindi SCF è una società di collecting la principale società di collecting in Italia che gestisce la raccolta e la distribuzione dei compensi relativi ai diritti connessi noi lavoriamo praticamente rappresentiamo poi alla fine tutto il mercato perché lavoriamo sia in una modalità diretta con circa 500 case discografiche fra major e società indipendenti italiane ma poi lavoriamo anche con altre sei organismi di gestione collettiva italiana che ci danno dei mandati e fra questi ve ne sono anche due che rappresentano gli artisti per cui questo è molto importante perché ci porta a dire che la copertura di una licenza che noi riusciamo a rilasciare per quanto riguarda i diritti connessi è una licenza che copre sia la parte di produttori quindi case discografiche ma anche la parte i cosiddetti AIE gli artisti interpreti esecutori due parole per gli studenti il diritto connesso scatta dal momento in cui viene diffusa una musica registrata in un ambiente pubblico e quindi è sostanzialmente complementare alla licenza SIAE la licenza SIAE invece copre i diritti per quanto riguarda l'autore e l'editore quindi ricapitolando abbiamo l'autore editore rappresentato dalla licenza SIAE e poi abbiamo il produttore e l'artista interprete esecutore rappresentato dalla licenza SCF dicevo che è un 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 argomento abbastanza importante perché per una società come la nostra che poi rappresenta anche un fatturato anche abbastanza importante per gli aventi diritto con percentuali che in alcuni casi raggiungono anche il 30 35 per cento del fatturato per esempio di una di una casa discografica andiamo a raccogliere una serie di di diritti su utilizzazioni musicali in scenari sempre più complessi e quindi anche il nostro ruolo è quello di lavorare da intermediari in modo tale che la licenza che andiamo a rilasciare sul mercato è una licenza aggiornata rispetto a quelle che sono le utilizzazioni musicali porto come esempio proprio il mondo dei broadcaster cioè delle radio e delle tv nel corso degli ultimi dieci anni abbiamo modificato almeno tre quattro volte la licenza quindi siamo passati dal flusso classico in FM a un flusso per esempio attraverso la radiovisione abbiamo inserito in licenza la possibilità di fare delle autopromozioni dei live attraverso l'utilizzo di basi musicali alt playback full playback abbiamo anche inserito la possibilità per quanto riguarda i broadcast di fare dei podcast di programmi che sono stati già trasmessi quindi giusto per citare quindi Rai con la quale ovviamente collaboriamo abbiamo una licenza la parte per esempio di Rai Play quindi un demand è tutta quindi ricade tutta all'interno di questo scenario di utilizzazione ma anche addirittura gli eventi live quindi sono comunque licenze che devono assolutamente seguire il il trend tecnologico la spinta tecnologica in modo tale che non si perda nulla non si lasci nulla sul mercato da un punto di vista di raccolta noi oggi lavoriamo con più di 250.000 utilizzatori che a me piace più chiamare clienti abbiamo quindi oltre 250.000 clienti e vi posso assicurare che sono nelle categorie più disparate nel senso che abbiamo i broadcaster quindi tutte le radio nazionali le tv locali le tv nazionali le radio locali ma poi tutto quello che esula da questo settore finisce in un grossissimo cauterone che si chiama public performance quindi all'interno del public performance abbiamo catene di negozi abbiamo i pubblici esercizi abbiamo gli eventi e così via quindi è veramente un aspetto sicuramente molto importante per i numeri che avevo prima e deve essere sicuramente una licenza che deve evolvere in funzione degli scenari infatti mi richiamo come ultimo spunto a quanto citato dal dottor Bisca perché probabilmente ancora l'aspetto del podcasting puro cioè del contenuto che è nativo digitale quindi non di un programma che è stato già precedentemente broadcastato trasmesso dall'emittenza è sicuramente uno degli oggetti su cui stiamo lavorando con gli eventi diritto per cercare di trovare una formula che sia la più diciamo semplice flessibile e che garantisca da una parte l'utilizzazione e dall'altra la rimunerazione per l'avente diritto e questo credo che sia una splendida notizia per tutti perché insomma i content creator stanno aspettando questo momento gli artisti i musicisti gli editori stanno aspettando questo momento cioè quello in cui si potrà inserire la musica dentro i podcast che nascono come podcast e non come programmi radiofonici che diventano podcast questo è fondamentale immaginate a che mercato si può aprire in questo caso e su questo magari tra un attimo sentiamo proprio mazza però già questa prima risposta di SCF mi sembra incoraggiante allora farei un rapido ultimo giro con i nostri ospiti di tavolo per chiedere loro che cosa vedono nel futuro a questo punto di questo ecosistema audio e suono come lo immaginano abbiamo visto che è un'evoluzione incredibile travolgente continua veramente non so neanche come chiamarlo se fossimo in Cina sarebbe il turbo capitalismo qui è una cosa ancora più veloce io non invidio Fiorito che ogni giorno si vede spuntare poi un soggetto nuovo un device nuovo una tecnologia nuova e aveva appena finito magari far approvare una lista complicatissima con mille eccetera e adesso dico no guarda che adesso è arrivato un nuovo una nuova app c'è un nuovo c'è il frullatore da cui può uscire uno spremi a gruvi che fa dei podcast sulle banane e normami quello adesso e lui poveraccio deve mettersi lì e capire come remunerare gli artisti allora velocemente partiamo questa volta dal gruppo G Antonio visca eccomi ma allora io devo dire che questo questo circolo io lo senza fine mi fa sorridere perché quando io ormai qualche annetto fa mi sono laureato devo innanzitutto ringraziare il professor Menduni perché ai tempi c'era tipo un libro che parlava di radio io mi sono laureato con una tesi sul settore radiofonico forse non era uno solo ma il suo era sicuramente un punto di riferimento c'erano un paio di altri al massimo e nella mia università io ho fatto la Bocconi a Milano insomma c'era una sola tesi in biblioteca sul settore radiofonico di Elsa Di Fonso che ringrazio lavora a Radio Mediaset adesso e quindi ringrazio il professore e ringrazio Elsa no per dire che era un settore molto poco esplorato da lì ho lavorato tanto anche nel settore televisivo ho fatto avanti e indietro ed è molto interessante secondo me come man mano che le cose si evolvono crescono cambiano non viene cancellato tutto quello che c'era prima io ho fatto una tesi nel momento in cui sostanzialmente la radio era ancora solo FM o al 99% FM oggi la radio e tante altre cose c'è ancora l'FM che rappresenta ancora una grande fetta di ascolto e di business così come quando io sono arrivato a Sky qualche anno fa chiamato per lanciare un canale che si chiama Sky Atlantic siamo partiti con sostanzialmente concorrenza omologa al nostro modello e cioè canali televisivi non c'era Netflix per dire quindi cioè dopo due anni è cambiato tutto però non è che i canali televisivi non ci sono più tant'è vero che Rai in questi giorni ha dimostrato come si riesca a catalizzare l'attenzione su un palinsesto lineare su un programma in diretta su qualcosa che è la quintessenza della tradizione dell'intrattenimento pur essendo declinato in modo straordinario e sempre moderno ecco quindi questo per dire che l'evoluzione secondo me resta un grosso punto interrogativo ma che francamente non vedo rischi di strappi così traumatici da portare all'azzeramento di qualcosa l'altra cosa interessante è sicuramente che il podcast ha questo flusso e sta creando questo flusso continuo avanti indietro noi abbiamo podcast tratti da ad esempio da canali YouTube anzi il nostro podcast più importante quello che fa più ascolti e che uno di quelli che fa più ascolti in Italia in assoluto in questo momento è proprio la versione audio diciamo così di un rimaneggiata modificata eccetera elisa true crime di un canale di un canale YouTube così come ci sono appunto citati prima versioni audio di programmi televisivi e viceversa che forse quello che diceva Sabrina Tinelli prima cioè il fatto che sempre di più produttori televisivi autori di libri no autori di libri editori di libri eccetera eccetera attingono ai nostri contenuti e contenuti dei nostri autori per generare anche altre modalità e altre declinazioni appunto dello stesso mondo dello stesso universo quindi io vedo un flusso molto interessante anche la stessa Spotify non ho citato con la parte video di Spotify che è un'ibridazione anche quella cioè è veramente difficile sicuramente fare un censimento perché rischia ogni giorno di essere già vecchio è la cosa bella secondo me se si riesce a navigare in modo abbastanza diciamo così fluido fra queste varie modalità credo che ci sia un futuro interessante grazie davvero Antonio Visca Sabrina Tinelli invece a Cora Media nella Secret Room delle riunioni strategiche che cosa vi state dicendo? Allora noi sicuramente continueremo a lavorare in questa direzione un po' come vi dicevo prima vogliamo cercare proprio stiamo cercando disperatamente strade nuove da percorrere quindi formati un po' spiazzanti eccetera e poi un po' perché un nucleo Mario in realtà Calabrese ha messo insieme una squadra che proviene da mondi molto diversi in realtà non arriviamo tutti dal mondo della radio questa in realtà è stata secondo me una grande intuizione per cui mi sembra che anche dal punto di vista dentro al po' non è tanto solo costruire un podcast ma poi allo stesso tempo è importante come comunicare quel podcast come farlo emergere nel mare magnum dei podcast attuali e un'altra cosa secondo me molto importante è provare un po' perché come dicevo prima c'è un nucleo invece molto forte che dall'audio puro proviene dentro Cora provare a spingere tantissimo un acceleratore proprio sulle potenzialità del mezzo audio e quindi provare a lavorare sull'immersione sonora cioè provare a costruire contenuti immersivi provare a trasformare diciamo la funzione del podcast anche in un'esperienza sensoriale e quindi provare a a costruire diciamo dei contenuti che rigorosamente da ascoltare diciamo in cuffia in auto o all'aperto e tra l'altro un primo esperimento è stato fatto insieme a Rai da questo punto di vista perché quest'anno l'anno scorso in realtà abbiamo prodotto una fiction in collaborazione proprio con Rai Play Sound che ha lavorato proprio nella direzione della sperimentazione di microfoni molto speciali che si chiamano binaurali per cui che hanno la caratteristica fondamentale sostanzialmente di riprodurre l'ascolto umano a 360 gradi quindi portarti dentro alle scene che che racconta e quindi sicuramente vogliamo investire in quella direzione e provare a superare altri confini grazie a Sabrina Tinelli allora prepariamoci per Avatar 3 la via del podcast sarà una cosa del genere qualcosa di simile Enzo Mazza dalla Fimi voi che cosa vi immaginate come convergenza futura possibile scenari ma allora sicuramente un'evoluzione interessante sarà quella della il podcast musicale da una parte quindi quello che dicevo prima cioè il sostituto o l'integrazione di un contenuto informativo quindi interviste o diciamo biografie e podcast quindi pod biografie di artisti con descrizione di attività o le loro racconti narrazione di quelle che sono state la loro attività produttiva piuttosto che la loro attività artistica dall'altra vedo crescere tantissima la sincronizzazione quindi l'utilizzo di contenuti musicali all'interno di podcast che non sono necessariamente podcast musicali ma che hanno bisogno di un contenuto musicale perché come è stato appena detto il podcast è già ma diventerà sempre di più un prodotto sofisticato quindi un prodotto in cui la qualità sarà fondamentale come noi vediamo nelle serie tv nei contenuti anche cinematografici quanto conta una colonna sonora adeguata ideale che trasmetta quelle emozioni che aiuti a trasmettere quelle emozioni che vengono descritte in un podcast che magari racconta che ne so della guerra in Ucraina piuttosto che quello che avviene in Iran quanto sia importante associare un contenuto musicale che sia così attraente da sostenere anche quelle che sono quelle emozioni che vengono trasmesse nel podcast quindi vedo molto molto importante questo segmento come crescita come abbiamo visto in passato la crescita che ha avuto la sincronizzazione nel settore documentaristico piuttosto che in quello pubblicitario prima poi dopo quello documentaristico però lì siamo nel senso che oramai questo è un mercato che avrà una crescita esponenziale nei prossimi anni e quindi la musica sarà un contenuto fondamentale grazie davvero anche Enzo Mazza allora del resto abbiamo sentito i numeri prima che ci dava Tremolada insomma sono numeri che se proiettati sul mercato italiano fanno veramente impressione a Mariano Fiorito non chiedo un commento ma mando un abbraccio perché insomma lo so questi la faranno impazzire nei prossimi anni lei dovrà assumere 20 avvocati per iniziare a elaborare le prossime leggi insomma per tutto quello che le compete ma abbia abbia i sensi del nostro affetto grazie mille grazie Fiorito davvero Tremolada e poi Bornino e poi chiudiamo col progetto artificiale può portare a targetizzare ancora meglio i contenuti in base ai gusti degli utenti seconda parte è nuovi formati ovvero come diceva anche prima Antonio il podcast lo abbiamo appena introdotto e abbiamo visto che molti creator che sono sulla piattaforma di Anchor stanno cominciando a sperimentare in questo senso tra l'altro per quanto riguarda la musica c'è anche una funzionalità che si chiama Music Plus Talk che non è ancora stata utilizzata da molti creatori negli Stati Uniti un pochino di più che permette sostanzialmente di combinare un contenuto un commento audio ad una traccia musicale che viene identificata nel momento in cui si produce il podcast e quindi in qualche modo identificandola poi siamo in grado di poter riconoscere i proventi agli eventi diritto in quel modo questo è disponibile sempre attraverso il caricamento via Anchor e nuovi formati anche inteso come per esempio interazione con il pubblico per esempio adesso è possibile fare dei sondaggi caricando un podcast su Spotify Alice Venturi e Camilla che erano le due diciamo host e due presentatrici del podcast che avevamo a Sanremo che si chiama tutte le volte che forse alcuni di voi hanno ascoltato questa settimana visto che è in vetta le classifiche proprio per commentare commenta i fatti di Sanremo ogni giorno utilizzavano proprio una survey una domanda facevano un poll ai loro utenti quindi abbiamo visto che ha funzionato benissimo perché poi ovviamente loro ci davano in qualche modo ulteriori contenuti grazie a quello che scoprivano tramite i loro ascoltatori ecco diciamo tutte queste cose che mettono al centro l'utente la capacità di interazione e di miglioramento dell'esperienza sicuramente li vedo in questo futuro e poi la terza è ovviamente come dicevo prima l'importanza nel monetizzare al meglio il contenuto dell'audio ovvero di renderlo sofisticato attraverso anche l'analisi dei dati e la fornitura di dati che fino ad oggi diciamo non abbiamo sperimentato noi abbiamo due strumenti che si chiamano uno chart che vengono forniti gratuitamente a chi utilizza la piattaforma di Megafone che sono sostanzialmente in grado dalla parte dell'editore e dalla parte diciamo di chi ci investe come brand di fornire una ulteriore granularità diciamo in termini di dati che permetteranno poi ovviamente di essere maggior valore sperabilmente dalla monetizzazione reintroducendo diciamo più ricavi possiamo aspettarci che ci sia una crescita in generale del mercato anche a livello produttivo grazie davvero anche a Federica Tremolada Andrea Bornino insomma qui la RAI ci sta stupendo abbiamo visto a Sanremo il podcast di Fedez Muschio Selvaggio il podcast come dire nemmeno nemmeno troppo scontato da vedere sulla RAI no? cioè tutto ci potevamo immaginare tranne che Muschio Selvaggio arrivasse su RAI cosa c'è nel futuro? eccolo qua sì devo dire è stata una mossa ha funzionato ma il futuro stavo tentando di trovare anche io delle parole secondo me quello che tenteremo di fare che stiamo già tentando di fare è di innovare però tentando sempre di trovare un po' di tradizione mi viene in mente una cosa principalmente nel podcast come Rai Play Sound stiamo tentando di riprendere quei format che la radio di oggi che la radio di flusso di intrantenimento ha un po' dimenticato l'ha annunciato prima Sabrina con la disciplina di Penelope che è questa fiction radiofonica bellissima che è stata pubblicata l'anno scorso è tornato quello che va il radiodramma e ha avuto un enorme successo giovedì registriamo a Torino nell'auditorium C che è quello dove hanno lavorato tutti i grandi registri radiofonici la nostra prima fiction prodotta da Rai Play Sound cioè rimettiamo in piedi una macchina che sono almeno 25-30 anni che ferma cioè quella del radiodramma funzionerà non funzionerà non lo so ma noi ci proviamo naturalmente cambia il formato è un formato più leggero più veloce la stessa cosa sono i documentari abbiamo ricominciato a fare i documentari radiofonici e li abbiamo proposti in podcast e hanno funzionato molto bene a luglio andiamo a registrare un podcast sulla statale Ionica 106 per fare un racconto della andiamo a raccontare ahimè l'andrangheta andandola a raccontare sul territorio raccontandola in un podcast è una cosa che prima si faceva al giornale radio adesso proviamo a farla in podcast cioè l'idea è di andare a recuperare grandi stili radiofonici che la VAI ha fatto sempre negli ultimi 30, 40, 50 anni guardo Tiziano davanti a me che li conosce bene li riportiamo on demand e vediamo se funzionano questo è una delle nostre sfide delle prossime settimane lasciami dire bellissimo grazie Andrea Borgnino poi la Ionica è una strada a cui sono affezionato perché insomma unisce la Puglia alla Calabria ma passando dalla Basilicata professor Menduni lei è il Gianni Morandi dell'Università Italiana sono emozionato moltissimo devo dire vi ringrazio tanto di questi complimenti ma diciamo credo che questo più che un convegno è stato un idromassaggio del suono una cosa vivificante insomma una succursale termine di Saturnia perché ci ha dato a tutti un grandissimo ottimismo dando uno sguardo panottico su tutto quello che sta succedendo e diceva Tiziano Bonini abbiamo superato il complesso di inferiorità poi abbiamo superato anche il complesso di superiorità che diceva Freud è un po' una variante del precedente e quindi è un mondo totalmente in movimento totalmente in movimento il mondo del suono il mondo dell'audio dove però la parola principale è probabilmente l'integrazione l'integrazione che vede intanto un'inclusione di nuovi soggetti dentro l'universo del suono quindi ci sono i broadcaster ci sono gli editori ci sono le piattaforme internazionali i giornali i privati quindi piuttosto che cannibalizzazione io vedo una grande inclusione di nuovi soggetti un ampliamento della tastiera di quello che dobbiamo fare e poi c'è anche un'inclusione dei vari audio perché in realtà gli audio sono tre sono la musica la voce e diciamo il rumore il suono l'ambiente ecco questi erano diciamo tre piani diversi di via asiago adesso non è più così insomma noi abbiamo una integrazione totale dei vari livelli del video e poi abbiamo anche un rapporto con il video molto meno conflittuale che il passato ecco dove la diciamo anche una volta il Pesco di Sanremo quando non era quello che è stato brillantissimamente in questi giorni a un certo punto il conduttore so Pippo Baudocchi per lui salutava gli amici della radio e si vedeva un gabbiotto tipo di 41 bis con alcuni poveretti che salutavano così sembrava diciamo il presepe vivente di Rivisondoli ecco tutto questo è finito noi abbiamo naturalmente non è tutto rose e fiori però noi abbiamo un rapporto col video che vede overlapping dove abbiamo delle aree che per il suono sono esclusive direi l'automotive altrimenti ci trasferiamo al pronto soccorso del San Camillo e quindi ci sono aree esclusive e poi ci sono aree di concorrenza e aree di integrazione quindi una situazione complessa dove c'è da lavorare insieme da farsi diciamo da farsi anche un po' di concorrenza reciproca ma anche utilizzare le sinergie fra un mezzo e l'altro superando diciamo vecchie vecchie insomma idee competitive che adesso si svolgono in un ambiente del tutto diverso e che e magari importando delle cose da un settore all'altro io faccio diciamo da studioso ormai diciamo Sunset Boulevard però c'è una cosa che avrei voluto sentire di più ed è la questione dei motori raccomandazione diciamo se l'ascolto si personalizza e perché non c'è più una frizione lineare è importante chi raccomanda cosa Netflix ormai da 15 anni ha stabilito che il 75% di quello che noi scegliamo è frutto di qualche raccomandazione e ci sono poi quelli che fanno i motori raccomandazione come ho comprato questo Wolf non con la pensione di professore ma l'ho comprato facendo i motori raccomandazione quindi parlo per esperienza diretta tutti quelli che producono e propongono video hanno un sistema strutturato di motori raccomandazione alcuni ce l'hanno anche nel settore proveniente dall'audio però questo è un settore che si può puntare di più se si vuole essere se si vuole essere sentiti ascoltati con la continuità e la fidelizzazione necessaria quindi diciamo questa è l'unica parentesi ecco la chiudo subito noi siamo di fronte a una situazione articolata dell'entertainment in cui fra audio e video ce la giochiamo con grande brillantezza diciamo vantando alcune esclusività che non sono solo fisiche e l'automotive ma sono soprattutto una faccenda spirituale che tutto sommato il video tu lo guardi da lontano e diciamo l'audio ce l'hai piccato dentro il corpo è una cosa che intanto ti lascia libero di fare qualunque cosa ma che diciamo ti parla all'anima è come quegli angeli che dettano dall'alto si vede quelle vecchie pitture degli angeli che poi contano e danno giù agli apostoli agli evangelisti le istruzioni su quello che devono scrivere ecco è una voce che ditta dentro ecco per dirla con il poeta che adesso va anche di moda insomma a recitare questi poeti d'arteschi quindi una situazione di grande integrazione e quindi anche di stimolo creativo fra tutti questi settori l'ultima cosa la vorrei dire sulla questione del servizio pubblico cioè anche la vecchia litania che il radio il peso dei privati era superiore a quello del servizio pubblico rispetto alla televisione quindi la radio aveva una doppia minorità perché anche nell'azienda RAI i radiofonici contavano un po' di meno perché nella loro sfera di mercato già meno importante erano meno forti dei colleghi diciamo di Viale Mazzini o di Teolada anche tutto questo appartiene all'archeologia appartiene all'archeologia perché noi siamo di fronte qui non solo con RAI Play a un'altra integrazione video audio ma siamo di fronte a una migrazione esplicita del servizio pubblico dalla radio al suono e questo ha delle ricadute a livello di adeguamento della mission di grandi interessi quindi noi siamo non solo di fronte a una prosecuzione del servizio pubblico ma una ridefinizione anche perché adeguare la missione del servizio pubblico migrando dalla radio al suono permette un cambiamento anche sociale della mission sia in termini generazionali che in termini multietnici che in termini complessivamente geografici nel fatto che diciamo le edizioni regionali non siano più solo regionali ma siano mondiali ha un interesse straordinario anche in termini di missione del servizio pubblico e questo credo adesso che RAI Play è diventato RAI Play Sound dove abbiamo avuto diciamo RAI Play Radio poi RAI Play Sound che adesso è una cosa così consistente a mio parere va spesa anche proprio diciamo nei termini del contratto di servizio perché la radio italiana sta diventando un modello in Europa di adeguamento alle nuove funzioni del suono in una società inclusiva un'intietnica come quella che è quindi diciamo noi siamo di fronte anche a una virtuosa competizione pubblico privato anche nel campo del suono quindi ho finito questo massaggio vivificante mi ravvolgo nell'accappatoio vi ringrazio moltissimo è stato bellissimo grazie a voi che mito il professor Enrico Menduni il nostro Gianni Morandi dell'università italiana mi servono altre giacche allora no professore per farle vedere come la RAI come dire è pronta a interpretare le sue parole la direttrice Mazzano mi faceva notare che è appena uscito il nuovo studio del centro studi dell'ufficio studi RAI che è proprio algoritmi di servizio pubblico sistemi di raccomandazione di engagement per le nuove piattaforme multimediali pubbliche Andrea sì che il librone audiosone è diventato un podcast cioè per chi non vuole leggersi le 650 pagine però io ecco appunto c'è è stato è nato un podcast è stato pubblicato oggi in occasione no no non sono 650 ore l'hanno realizzato appunto Gianni Gozzo i cavezzali che sono qua davanti e quindi di nuovo da un libro è nato eccolo qua è nato un audio giusto per far capire questo questo continuo inseguirsi bene 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 bello 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 e allora ci fermiamo qua ringraziando ed abbracciando affettuosamente gli ospiti vicini e quelli lontani ci vediamo giusto il convegno continua nel pomeriggio adesso alle tre mi dice ecco la professoressa per rotta quindi a voi il nostro augurio di continuare i lavori nel migliore dei modi in questo pomeriggio e quindi a voi